eeeh c'è fuori Tani, ma anche Gaulle e anche Cordella sono tutti lì ma andiamo a vedere qua Lider e allora andiamo a vedere come è stato pieno Piovesan con la paventa 900 minuti e Piovesan e attenzione arriva Gaulle, arriva Gaulle e anche il Cordella con Castelnuovo e però è Piovesan che chiude in prima posizione e ritorno di Gaulle in seconda chi chiude, bravi voto con il Piovesan